Buonasera a tutti, grazie per essere qui la terza edizione di Cose Pop, noi della consulta giovani spazio disponibile del comune di Monteprandone desideriamo ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale per averci nuovamente sostenuto in questa iniziativa, vi ricordo l'appuntamento a lunedì prossimo in piazza dell'Aquila a Monteprandone con i di verbo e bastian contrario, vi invito a seguirci sulla nostra pagina facebook Cose Pop, il nostro account twitter Cose Pop, lascio ora il palco a Iguano Padano e a seguire di Astrofonics e vi auguro buon divertimento, grazie a tutti.